Ciao a tutti ragazzi! Oggi andremo a riprendere in mano questo bellissimo gioco che è The Sims 2 e andremo a rivedere la parte sui alieni. Nel terzo e nel quarto ci sono evoluti nel far arrivare gli alieni, fare figli con gli alieni, che venivano verdi, non venivano verdi. Io quando ho preso il 2 non riuscivo a capire come far venire un figlio verde, perché c'era un alieno a stranizia mi sembra, che aveva famiglia, aveva fatto i figli, tutto quello che vuoi, ma nonostante io lo facessi salire con la mia sim, non venivano figli verdi, venivano figli normali. Col tempo poi ho scoperto che bisognava far rapire un uomo dagli alieni e da lì si avrebbe diventato il bambino verde alieno a tutti gli effetti, che poi se avessi fatto subito una cosa furba sarebbe andata a vedere nell'abito genealogico della famiglia di questo qua e avrei scoperto che non era figlio della moglie, almeno così avrebbe dovuto essere, ma non mi ricordo, ma mi sembra di sì. Quindi, insomma, ci ho messo un po' a capire. Andiamo a rivedere un po' alcune famiglie con figli alieni. Vediamo un po'. Sì, la ragazza scraumata è veramente vecchissima, fa impressione. Dunque, quella famiglia là era a Tranestia, che non sbaglio. Ecco, qua c'è la tecnico di impollinazione nuova, come si chiama, che non riusciva mai a fare gli sfornati, i figli verdi. Dunque, dovrebbe essere Venezia. Una volta ci metterà una vita a capitare questi giorni. Ci vediamo adesso con un piccidio ora quanto ci mette. Già finite. Oh cavolo, se ci ha messo niente. Mi ricordo caricamenti infiniti, ma... Dunque, se ne sbaglio la famiglia è questa, gli occhi aperti. E il biondo, e anche il blu con i capelli neri, con un tastichetto così, che avevano finito un sbaglio. Non mi ricordo più, ma... Non mi ricordo più gioco. E' ancora scraumata dalla lettura, se non c'era di poter dire... Eh, vedi, c'era lui. Dai, questo invece è già incinto. E questo qua ha già una bella panfetto. Avendo i nomi... Dai, te lo andiamo a casa per ora. Certo. Buonissimo. Ma no... Io poi tendo a scegliere i nomi, se lo basso l'albero tecnologico. Mi fa piacere dare i nomi dei nonni. Dunque... Ecco, vedi lei, che è quella moglie di tecnico di un po' di nazione nuova. Siamo sempre in famiglia, eh, in un modo o nell'altro. E lui ha avuto da lei loro due, e poi i single. Ha avuto, infatti, due figlie. Lui ha avuto due figli da lei, e due figli da... dal papà di lei. Cioè, assurdo la cosa. La valbera tecnologica è assurdo, questi qua. Comunque... I... Perché ovviamente ci sono stati rapiti. I... Vecchi nomi sono... Glarn... Kitty non mi dispiace... Chiara... Piccolo per niente... Am... Glarn o Am... Glarn... Chiara non mi dispiace... Kitty neppure... Anni neppure... Devo decidere il numero di maschio. Laszlo... Però i nomi sono tutti strani, quindi... Glarn... Potrebbe andare bene. Dunque... Allora, tu hai mangiato? E' squadra! Ma no? A crema! Tu, guarda... Ma no... 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 E' una gran... Quanta... La stia... Quella polizia... E ora chiudiamo il circolo da solo. Molto male del cielo? Va bene, noi chiudiamo il cielo. Dunque. Aveva una casa con tutti i telescopi. Ancora. Ammira le stelle. No. 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 che? è liberato guardate 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 non c'è neanche l'incontro ti viste un conto gli alieni l'olombiata tu parla con lui oh ussupi alla sciupa ah 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 e ma ah ho No, 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 no. Io voglio! Mi cloud! Ops! OOOH OOOOOH OOOH OOOOH OOOOH Non c'è un'ecchiaire! Non c'è un'ecchiaire! C'è un'ecchiaire! Sì, avevano l'arrivo scattato. Sì, sì, sì. Buono, buono. Bambina, voleva la femmina. Chi chiamiamolo Glarm, come nonno. I patti interstellari sono faticosi. Il tuo sim potrebbe avere bisogno di aiuto. Tre giorni di ferie. Lada! Chi sai tu? Chi che gl Nate? lui ha il pupo e ma gli hanno messo il lettino si, ok, tagli di baron, metti il baron in box, usa, tira l'acqua, mangio, mangio mi serve un bagno, ma ce ne hanno solo uno di bagno c'era una buona stessa, tu sai? oh, stessa Stessa no, non mi la so Grazie no go boom no 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 ah 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 nischiata non ho appena mangiato il tuffo dopo che non lo porti ma era pulizia lo do il che va il t interessante il è no se Siamo abituata con il 3, per dire attività normale e non attività normale ci potevi decidere cosa fare, non importa, allora lui, arriva una, tira l'acqua, poi una doccia, un paio di punti che si apriva bene, anche per te non sapevoli, non ha, non ha, non mi rimassa a sesso, mosh, 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 mosh Vorrei sapere se tu sei incinto oppure no, visto che sei stata la piccola e lì è. Ah, tu fai, no vorda, ah fatuza, simono, e me, va, simono, ah, guarda, 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 Is an eso, guardalo, 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 guardalo o ian-me faultaro, guardalo. Sì, è il mio figlio. Posa puoi andare a casa? ok 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 ma che un pagina i patti mamma mia ma la rotta ma non 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 Oh, come la gana? Oh, come la gana? Sì, sì, sì. hello GIDS troblasto... ci vetticami là 1, 2, 2 4 là lè bu the la cio mylotte paù i bloppo paù haci un belitè crank 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 troblasto cio macchita su una cio ok No, 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 metti la mia box, non ti lascio il tuo cuore, e tu hai un altro letto che dovrebbe essere da questa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Prova, Asma, tu... Un bellissima linea Asha. Che c'è che abbiamo dentro? Ehm... Trovi. Che sta facendo? E' un vino che sta facendo per andare al bambino? Svece! Si, che c'è un primo! John, hai ancora? E proprio... Ehm... 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 ...on dic... ...upon... ...nuele tifu! Ehm... Ehm... ok ahahah ma poi si va che boom, che boom, che boom ma capisite buongiorno tu dovevi cucinare per tutti ma servi per con la tiana e poi partirei qua ahah, chiamata la tiana ahah, chiamata la tiana ahah 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 stupe stupe e va fuori a mangiare e vai fuori a bevira si vede dentro meno male che non ci sono le stagioni cioè non fa destino un po' di freddo ahah 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 No, 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 no. Ma non c'è un bel giallo Oh, no te cram! We go! con la moglie degli alieni ovviamente allora pulisci con l'impiatto e allende allora non mangiare, non mangiare roba variata fai il colazione veloce con i cereali Wabba! praticamente sta lavorando uno per tutti Wabba! ti diverti pure allora vediamo un po' cucina però potrebbe volarci del tempo allora facciamo via la udire dei liberi se imparino a cucinare potrebbe essere un abbonatore sembra la bolletta? no non 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 E va a far mani se fosse degradato, va bene Ok, che devo fare? Non me lo fai, non mi riesco a spuntare Ma un po' di pulizia non li potevi fare La peinata è testinata Sì, non peinata è testinata Sì, non peinata è testinata Sì, veramente Allora da sparare, dove c'è una scoria? C'è un palazzo sufficientemente bravo Perché la faccio a provare Ma non so non lecce da desistare mamma mamma Sì, sì, sì. praticamente sto tre anni un fatto di grinta testa di sua figlia dai di verano fa che me l'ha messo da te fa che bobo Sì, 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 sì. Bologna tua Pogli Pogli Danna Pogli 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 ... ... ... ... ... ... chi manuva di secco ma ciò perché della notte hanno giocato allora si parla logica perché stanno aumentando l'opera di nuovamente è variato si è variato ma non mangiava colazione con i cereali ovviamente mi allaghi il bagno devo assolutamente cambiare casa poi il prossimo video avrò cambiato casa no scusate cambiato che fa cagare scusate sta schifo ecco fatosa scusate 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 donno scusate la e scusate Grazie per la visione! Grazie per la visione! Finalmente mi ha lavato, mi ha messo via una ciotola bella colazione, alleluia, tanto cielo! Speriamo che non si rimuovere il processo! Devo fargli studiare un punto di pulizia al giorno della notte! Noia! Vendato, ma va a dormire! Vendato! 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 hai un bel volto però senza naso allora papà mi insegni a usare il vasino e poi lo metto a nanna devo comprare un po' di giochi no come hai fatto oi 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 Ehi, vabbadone Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Oh, I'm going to go. 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 Devo ritornarmi quando si sveglia il pupo che mi devo far aiutare il bambino. Vediamo un po' l'albero di una logica. Inizialmente questo qua ha avuto 6 figli, un nipote che si chiama come te. Cioè praticamente l'ha avuto da un altro alieno, un alieno tecnico. Però ha lo stesso padre probabilmente di quel figlio di Victunde. Vabbè, se è un maschio lo chiamo Ham, visto che prendiamo anche il genitore della mamma su. E invece una femmina lo chiamo Kitty, Annie o Chiara. Annie, Annie mi piace di più. Amici qui? è tutto il gioco? è tutto il gioco è tutto il gioco ah ah ok ah ok ah ok ah.... REMARCHI! in cambio! AAAAAAHHHHH ecco fuori lascia fermi la macchina ma la bagazze me sembra che abbia già un paio, mi euda di sbaglio si portà giornale, l'altro non ce l'aveva portà giornale questo, questo ora qua quasi che maschio eh vabbè tutti maschi sono, sono cinque maschi ragazzi amorino amorino vabbè ma questo ragazzi pensiamo poi alla prossima puntata perché ci ha fatto un po' tardi devo scappare alla prossima puntata vedete la casa un po' più carina, rimodernata al minimo perché si rompe qualunque cosa che c'è qua dentro e vediamo come riusciremo a farli crescere questi bei alieni ciao